A Paganica, nel cuore del paese vecchio, è rimasto tutto come sette anni fa. Se nella periferia la ricostruzione va avanti, nel centro del paese è tutto un puntellamento. Il deserto, le attività commerciali che un tempo animavano la piazza, punto di incontro, non ci sono più. Ed è difficile, soprattutto per gli anziani, vivere a Paganica. La zona rossa è ancora completamente inagibile e non c'è nessuno che si interessa per poterla mandare avanti, questa ricostruzione. Le zone limitrofe sono quasi completate come ricostruzione. L'imitrofe si intende tutte le case singole, che non c'è aggregato, non c'è niente. Invece gli aggregati si dice che dovrebbero partire adesso nel mese di febbraio, marzo, però non si vede ancora niente. Addirittura la chiesa della Concezione qua è uno scaricabarile, la prendono, la rilasciano, la prendono. La chiesa madre qua non si sa quando partirà, come la piazza, come i vari bar, pizzerie che erano qua nella piazza. Vi manca il cuore del paese? Praticamente manca il cuore di Paganica e non si vede la strada di far partire questa benedetta ricostruzione a Paganica. Anche perché all'Aquila è inutile che loro non erano, all'Aquila la ricostruzione è partita e alla grande. Quindi qua abbiamo subito due terremoti, uno del 2009 e l'altro lo stiamo subendo per non la ricostruzione. Quindi i problemi di Paganica secondo me sono più grossi di quelli dell'Aquila e le cose non vanno. Manca l'interesse generale degli parlamentari. Vengono, fanno delle riunioni, parlano, parlano, però in conclusione non si muove niente. Non c'è un progetto che è definito chiaramente, se dice domani o stanno tra un mese o quattro anni, parte. Non si sa niente, è una confusione totale. Il malumore si sente come. Paganica, che è una delle frazioni più popolose dell'Aquila e che un tempo è stata comune, chiede all'amministrazione centrale più attenzione, che non si pensi in definitiva solo al centro storico dell'Aquila, ma anche a quei tanti paesi che chiedono di poter rivivere dopo sette anni.